Innanzitutto non possiamo ulteriormente appesantire il servizio pubblico perché è già appesantito di suo e soprattutto perché dobbiamo anche dare una possibilità anche alle imprese di ripartire economicamente nelle loro attività. E' assolutamente indispensabile investire ma non come è stato fatto l'anno scorso quindi con più oculatezza quest'anno facendo dei bandi regionali ma anche provinciali ossia non chiamiamo come fu fatto l'anno scorso imprese fuori provincia che poi di fatto non sono subentrate non sono intervenute a gestire questo traffico di persone e non è possibile gestirlo in questi termini. Inoltre secondo me bisogna anche prevedere i cosiddetti NCC, piccoli pulmini che possano trasportare anche persone che hanno un handicap o appartenenti a categorie protette. Non dimentichiamoci di loro come è stato fatto l'anno scorso. Adesso abbiamo le tempistiche giuste, i mezzi giusti, conosciamo i problemi, cerchiamo di non replicare le problematiche che abbiamo avuto l'anno scorso. Se così fosse non potrebbe esserci poi un aggravio di costi per la Regione? Ma un aggravio di costi no perché comunque la Regione per supplire a tutte le necessità di cui c'è bisogno deve necessariamente incrementare con nuovo personale, con nuove forze proprio pratiche, tecniche e di mezzi. Tanto vale dare anche possibilità alle società, alle associazioni private di intervenire e quindi di svolgere il servizio meglio. Tra l'altro questo esperimento, questo progetto in alcune regioni è già partito? Sì sì, beh assolutamente, ma necessariamente non dimentichiamoci anche il fatto che l'occupazione all'interno del pulmina o dell'autobus che sia non è totale dell'80%, quindi necessariamente si genera un surplus di persone che restano di ragazzini, specialmente parliamo di quelli fuori comune che vengono comunque a studiare in città o in paesi diversi rispetto a quello di abitazione. Grazie Grazie Grazie